Musica Bentrovati telespettatori di TVSER appuntamento con le previsioni meteorologiche per sabato 5 novembre. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare questa vasta perturbazione di origine nordatlantica a avvicinarsi ai territori italiani. Questa porterà un debole peggioramento delle condizioni meteo anche sulla nostra regione. Nel dettaglio, al mattino sull'Abruzzo avremo cieli nuvolosi lungo la fascia costiera, mentre nelle zone interne dell'Aquilano avremo cieli molto nuvolosi a tratti coperti. La ventilazione risulterà sostenuta dai quadranti occidentali e i mari generalmente mossi o poco mossi. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche vedranno un primo debole peggioramento che apporterà deboli piogge in particolar modo nelle zone interne dell'Aquilano, mentre lungo la fascia costiera e collinare le condizioni meteorologiche risulteranno più stabili e cieli poco nuvolosi. Nel corso della sera le condizioni meteorologiche risulteranno pressoché invariate, con deboli piogge che continueranno a interessare le zone interne, mentre sulla fascia costiera e collinare avremo ancora cieli poco nuvolosi. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.